Gentili telespettatori buona giornata. Dopo quello che ha detto Matteo Renzi sui giudici di Firenze sull'inchiesta Open, il ministro della giustizia Carlo Nordio apre un'indagine sui giudici. Così il ministro risponde all'interrogazione di Italia Viva sulle presunte irregolarità nell'azione dei pubblici ministeri. La soddisfazione di Matteo Renzi, Nordio autorevole titolare della giustizia e non aspirante DJ. Ma che te ridi? Perché aspirante DJ? Vi ricordate che prima c'era quello là che si chiamava, come si chiamava? Quello dei 5 Stelle, Bonafede in arte DJ Fofò. Cioè Bonafede non era un aspirante DJ ma era in gioventù, aveva fatto il DJ e nelle discoteche si presentava come DJ Fofò. Ecco, tante volte l'abbiamo chiamato DJ Fofò, cioè ministro della giustizia DJ Fofò. Quindi Renzi dice Nordio autorevole titolare della giustizia e non aspirante DJ. E così il governo attraverso il suo ministro manderà gli ispettori in procura a Firenze per il caso Open. L'ha annunciato ieri in Senato il ministro Nordio che promette un'indagine conoscitiva rigorosa e urgente per capire i contorni dell'operato dei magistrati, che avrebbero inviato al COPASIR atti dell'inchiesta Open contro Matteo Renzi, nonostante quei documenti dovessero essere distrutti su disposizione della Corte di Cassazione, che ha annullato per tre volte i sequestri subriti dall'imprenditore Marco Carrai nel 2019, disponendo la restituzione di tutti gli atti. Il ministro ha risposto a un'interrogazione proprio del leader di Italia Viva. I fatti enunciati nell'interrogazione, ha detto Nordio, saranno oggetto di immediato e rigoroso accertamento conoscitivo attraverso l'ispettorato generale. Successivamente, dice questo di Castero, questo ministero procederà ad un'approfondita, e sottolineo approfondita, valutazione di tutti gli elementi acquisiti alla fine di assumere le necessarie iniziative. Grandissimo Nordio! Non era mai successa una cosa del genere. I miei rispetti a questo ministro è uno dei ministri che io stimo di più. Carlo Nordio, quando lo sentite parlare, lo sentite ragionare, è una mente eccellente ed è un ex magistrato non schierato politicamente a sinistra. E non è poco. Non è poco. Scusate se non è poco. Scusate. Intanto mi viene in mente una cosa. L'avvicinamento di Azione Italia Viva al governo Meloni. Intanto abbiamo un primo mistero. Chi ha aiutato il governo con l'elezione in Senato di La Russa come presidente? Erano venuti fuori un bel po' di nomi che hanno votato per la Russa. Chi è stato? È stato veramente tutto il terzo polo? È stato davvero Calenda e Renzi che hanno aiutato la Meloni? Non si è mai saputo. Sospetti, ma bocche cucitissime. Prima fatto. Poi Calenda che va a parlare con la finanziaria con la Meloni. La Meloni prende appunti. Calenda che dice sono affascinato dal percorso politico della Meloni, una questione di chimica. Siamo su idee diametralmente opposte, ma sono affascinato dalla Meloni. Poi questo colpo di scena che il ministro di centrodestra prende e valuta in un certo modo le lamentele di Renzi sul processo Open. Addirittura apre delle indagini sui magistrati e su come stanno operando con Renzi. È un fatto eccezionale questo. Eccezionale. Assolutamente eccezionale. Renzi è rimasto colpito come il governo di destra che apre le porte a Calenda, chi aiuta Renzi e credo che Renzi abbia anche ragione, mia opinione personale. C'è sempre più una vicinanza tra l'area politica del terzo polo con il suo 8% e il governo. Io non credo alle coincidenze. Io credo che la Meloni, visti gli alleati, tolto Lupi rimane Salvini e Berlusconi, la Meloni solo dieci giorni fa tramite le pagine del Corriere della Sera, credo che abbia letto, gli avranno riferito, si parlava da fonti sicure che Salvini e Berlusconi si vedono spesso e fanno a gara a chi parla peggio della Meloni. E che vi devo dire? Questa me la chiamate una coalizione? Me li chiamate degli alleati? Io li chiamerei in un altro modo. Ce ne sono tanti modi per definire quelli che davanti ti fanno il sorrisone, ti dicono siamo amici, tutti per uno, uno per tutti, appena giri le spalle ti stanno ridendo dietro. Io personalmente nella mia vita di questi personaggi qua era pieno, dove sono cresciuto io, nei dintorni di Arona, Dormelletto, le persone cui avevo intorno, la maggior parte erano così. In effetti io pensavo di avere amici, in realtà non erano neanche conoscenti, perché il conoscente non ti ride neanche dietro le spalle, mentre il finto amico... ecco, non so neanche perché sono finito a parlarvi di sta roba qua, però la vicenda giudiziaria che coinvolge Renzi e la cerchia di persone che gli è stata vicina negli anni della sua scesa a Palazzo Vecchio, a Firenze, a Palazzo Chigi, l'indagine ruota attorno alla natura della fondazione Open, che secondo l'accusa avrebbe agito come un'articolazione di partito, violando le norme sul finanziamento. Questa inchiesta salta fuori quando Renzi fa la scissione dal PD, se ne va e vuole distruggere il PD. Immediatamente arrivano delle inchieste. La domanda è, le inchieste erano state fermate perché lui era nel PD o le inchieste sono state create perché lui se n'è andato dal PD? Cioè, l'inchiesta era dormiente di fatti veri o l'inchiesta è stata creata dopo che lui ha fatto la scissione? Questo è il mio dubbio. Cioè, erano fatti comunque illeciti, nascosti finché stava nel PD o erano fatti inventati perché lui se n'è andato dal PD? Questo è da capire. Quindi, quello che dicono i magistrati è vero ed era stato tenuto nascosto perché lui era nel PD o cosa? Questo è da capire. Questo è da capire. Se questa inchiesta porta realmente a dei reati, a delle cose, o questa inchiesta è stata fatta per fermare Renzi che voleva distruggere il PD? Ed è proprio quello che probabilmente Nordio vuole verificare, anche se credo che abbia dei leggerissimi sospetti. Grazie a tutti e arrivederci a presto.